Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti dopo qualche giorno di inattività perché un sacco di notizie che si susseguivano e non volevo commentarle tutte per poi essere smentito 12 o 24 ore dopo Facciamo il punto della situazione un attimo in casa Napoli, probabili formazioni verso la partita di domani contro il Monza improvvisata, inattesa, inaspettata almeno a quanto si legge del presidente a Castelvolturno discorso alla squadra, commenteremo anche quello e alcune voci di mercato per quanto riguarda allenatori e calciatori del Napoli perché ci sono anche alcuni risvolti interessanti per quanto riguarda tasselli del Napoli che potrebbero finire in Serie A e alla concorrenza prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per chi non l'ha fatto ancora attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qual volta carico un nuovo video e vi aspetto nella sezione commenti per discuterne anche lì in base alla situazione che andiamo ad analizzare La visita del padrone Aurelio De Laurenti si è giunta in attesa ma è servita a confrontarsi sul finale di una stagione che rischia di essere molto deludente Il discorso con il massimo dirigente è durato circa mezz'ora con il presidente che ha chiesto a tutti i giocatori di dare il massimo nelle ultime otto partite di questo campionato De Laurenti si è rivolto anche a chi andrà via in estate Chiudere bene il campionato può rappresentare una vetrina importante per le offerte di mercato Il presidente Aurelio De Laurenti si avrebbe scelto di non garantire nessun premio Europa nel caso gli azzurri raggiungessero l'Europa League e non la Champions al termine di questa stagione Perché la Champions League aritmeticamente è ancora possibile alla portata il numero 1 e la dirigenza azzurra non vuole abbassare le aspettative Ci fermiamo un attimo perché va bene che a livello matematico finché non hai la sentenza numerica ci devi sempre credere e mi fa anche piacere che la società ci creda ancora ovviamente e diciamo che il tifoso che poi ce l'ha con il presidente a spada tratta mi verrà a dire è normale che ci crede sempre la società quello quello vuole i 40-50 milioni della Champions e ragazzi ma sputiamoci sopra cioè siamo una società senza fondi esterni in completa autogestione è una cosa normalissima che un imprenditore vuole quel quarto posto almeno o il quinto quest'anno poi vedremo come andrà a finire Detto questo, nessun bonus extra verrà corrisposto alla squadra partenopeia in caso di raggiungimento dell'obiettivo Europa League e la decisione del presidente Aurelio De Laurenti si ha fatto leva sull'orgoglio del gruppo nella sua ghiacchierata di ieri al Konami Training Center di Castlevolturno mi raccomando chiudiamo questa stagione a testa alta con i valori che abbiamo si potrebbe provare a vincere le prossime otto gare e regalarsi una passerella di livello che servirebbe a tutti allora va bene fare leva sull'orgoglio della squadra sono d'accordissimo nel diciamo arrivare a Castelvolturno così all'intrasatto del presidente e fare questo discorso alla squadra cercando di scuotere un tantino non credo che la squadra faccia leva sul proprio orgoglio e le vinca tutte otto nella maniera più assoluta perché il Napoli di quest'anno non è in grado di vincere otto partite secondo me anche perché vi parla uno che si era aveva delle aspettative diciamo diverse da quelle che poi ha avuto la squadra quello che ci ha detto in campo il Napoli quindi noi credevamo di essere una squadra molto ma molto forte è costruita con una rosa molto molto competitiva forse non lo siamo abbastanza in base alle aspettative che mi sono creato io o ci siamo creati noi noi tifosi per me il discorso del presidente non fa una piega anche perché quali premi per una stagione del genere va benissimo gli errori che ha fatto la società le abbiamo analizzati abbiamo messo tutto sulla bilancia e sapete benissimo come la penso però poi premiare addirittura per un'ipotetica Europa League che raggiungeresti poi perché a livello di punti poi li andremo a vedere un attimo i punti alla classifica a livello di punti raggiungeresti un Europa League quasi a maz come si dice a Napoli per non dire un'altra parola vincendole tutte otto è vero che 45 più 24 fa 69 e forse quel quinto posto lo potresti anche raggiungere ma dipende sempre da come correranno in avanti se non perdono punti non ci credo più io personalmente poi nel caso dovesse arrivare non è che dico siamo arrivati in Champions che schifo assolutamente non sarei sarei un'ipocrita nel pensare nel pensare tutto questo quindi sono d'accordo su questa scelta del presidente nella maniera più assoluta poi ditemi ciò che volete il presidente va criticato quando lo si deve criticare e per me quando ci sono cose fatte bene gestite secondo me nel giusto modo è anche è anche giusto analizzarle e dire la propria detto questo Conte italiano secondo me più Conte che italiano anche se italiano resta il sogno Conte resta il sogno scusate però più andiamo avanti e più gli diamo secondo me adito e credito a questa cosa e più si alzano le aspettative di noi tifosi della stessa società e tutte le le cose che andrebbero a gravare poi sull'arrivo di questo allenatore vedremo come andrà a finire Sparnelli se non erro ex addetto stampa del Napoli lancia la bomba il notaio a Torino mi ha detto eccetera Sparnelli era pure quello che nel 2019 se non erro Fabian Ruiz all'89% va al Real Madrid non mi sembra mi sembra che è andata al Paris Saint Germain e tante altre diciamo castronerie uscite dalla bocca di quest'ex addetto stampa del Napoli Di Lorenzo all'Inter indiscrezione confermata da Chiariello e l'Inter dovrebbe vorrebbe diciamo Di Lorenzo per sostituire Dumfries nel caso dovesse partire poi l'esterno appunto olandese in casa nera azzurra Raspadori forse un interessamento nel caso non si arrivi a Gudmundson in casa Inter ma sono chiacchiere per quanto riguarda Di Lorenzo può anche darsi che come ho detto a inizio anno o nemmeno a inizio anno come ho detto dopo un paio di mesi di campionato dove lo vedevo un tantino fuori fase a livello mentale anche in qualche conferenza stampa è stato forse meno lucido del solito e lo dissi in una live con Armando di Casanavoli dissi secondo me il rendimento di Di Lorenzo un tantino sottotono è anche dovuto alle troppe responsabilità che si carica sulle spalle da capitano e forse in un'annata così non le riesce a reggere tutte ed ecco errori diciamo molto molto semplici cioè passaggi molto semplici sbagliati situazioni lette male errori in partita che non abbiamo mai visto mai visto negli anni a Napoli da Di Lorenzo può darsi che siano comunque frutto tra virgolette di una testa piena di pensieri per quanto riguarda la situazione che abbiamo vissuto quest'anno poi è un mio personale pensiero vedremo come andrà a finire e quale sarà l'allenatore che siederà sulla panchina io credo che si vada più verso italiano che conte però come ho detto nell'ultimo video a livello economico e di budget per poter fare mercato e prendere un allenatore al quale dare completamente carta bianca o lo fai quest'anno oppure devi vedere poi come ti vanno le prossime annate per poterti gestire una cosa del genere va detto però che nel caso tu prendi conto non è che fai mercato quest'anno fai la squadra arrivi tra le prime quattro al limite e allora hai risolto assolutamente no perché fisicamente ogni qualvolta conte mette mano a una rosa dopo due anni devi comunque cambiare tre quattro cinque tasselli perché sono completamente scarichi e diciamo tirano tirano molto meno a livello fisico dopo i due anni di conto detto questo che me che venga conto venga italiano venga tizio caio sembronio che venga a napoli e come ho sempre detto chiuda la porta dello spogliatoio e anche se il presidente volesse entrare in un qualsiasi momento della stagione che chieda il permesso all'allenatore e al direttore sportivo perché così va fatto non intervenire come presidente diciamo in scivolata in uno spogliatoio è cosa buona e giusta poi ovviamente andrà analizzata l'annata l'annata prossima ma vedremo vedremo come come andrà a finire le probabili formazioni del Monza allora il Monza dovrebbe schierarsi con Di Gregorio Traipali un attimo che ce l'ho qui Di Gregorio Traipali Birindelli Izzo Mari Carboni Bondo e Gagliardini davanti alla difesa Colpani Carboni Maldini e Diuric diciamo che dovrebbe essere un 4-2-3-1 ma sono solo numeri 1-4-2-3-1 per il Monza 1-4-2-3 per il Napoli il Napoli dovrebbe cambiare il terzino sinistro ovvero Olivera al posto di Mario Rui e Karascheli è in campo titolare poi vedremo se è al 100% perché c'è stato questo recupero in settimana Zielinski favorito su Traoré se Traoré è quello della partita scorsa allora per qualità per schierare qualità in campo rimane sullo Zielinski che poi Zielinski sia con la mente a un'altra parte che giochi bene o giochi male lo vedremo lo vedremo domani comunque Di Lorenzo Racamani Juan Jesus Olivera Meret Traipali Angissalo Bott Kazirischi Quara Osi e Politano secondo me le condizioni di Ingonce non sono ottimali ha preso una botta inizio settimana ma hanno lavorato in gruppo ieri sia Quara che Ingonce quindi recuperato però bisogna vedere fino a quando è stato recuperato c'è un'incognita Lindstrom non si sa come sta perché ci sono delle condizioni da verificare perché ha saltato l'ultimo allenamento vedremo come andrà a finire partita non assolutamente non semplice fuori casa con il Monza a 42 Napoli a 45 se il Monza vince si porterebbe a pari punti con il Napoli inserendosi di diritto di diritto in questa corsa al settimo posto perché noi partiamo con questa corsa al settimo posto se poi dovesse arrivare in Europa League ben venga se poi la squadra dopo il discorso di diritto del Presidente cosa che non credo avvenga nella maniera più assoluta dovesse vincere le prossime otto partite mi viene da ridere perché il Napoli quest'anno assolutamente non è una squadra che può vincere otto partite allora 69 punti perché 24 più 45 69 potresti anche entrare tramite il quinto posto ma è sempre da vedere vedremo come andrà a finire queste sono le ultime in casa Napoli fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ci vediamo nel prossimo video ciao